Grazie a tutti. I favori sono per Daphne Di Poggio, numero 5 Matteo Zaccherini in sediolo, macchina che comincia ad accelerare. Partiti con Daphne Di Poggio, velocissima, in breve conquista la testa, Dubai Jet veloce al suo esterno, mentre lungo la corda c'è Casanova Adri che segue direttamente le mosse di Daphne Di Poggio. Dubai Jet cerca di sistemarsi in seconda posizione ma lo spazio non c'è e quindi si adegua all'esterno dopo 13,9 per i primi 200 metri. Dubai Jet a largo alla corda Casanova Adri e altri leggermente più discosti e 400 iniziali completati in 28,4. Dubai Jet si è sistemato in terza posizione mentre all'esterno non tarda ad avanzare Donnie Darko, Font che progredisce gradualmente su Daphne Di Poggio. 600 iniziali in 44,8 con un riposino in curva per Daphne Di Poggio che ora però deve cercare di attrezzarsi per sostenere l'affondo di Donnie Darko. intanto se ne vanno in 39 i secondi quarti di gara e si arriva così a un chilometro percorso in 1,14,3. ha spostato all'esterno Degà Del Ronco e a 400 dalla conclusione Degà Del Ronco si avvantaggia su Daphne e Donnie Darko che rimangono lì, sposta anche Casanova Adri. Degà Del Ronco prende netto margine di vantaggio all'ingresso in retta d'arrivo e inseguita da Casanova Adri mentre Daphne Di Poggio e Donnie Darko sono rimasti lì sull'affondo portato da Degà Del Ronco che nel finale accelera ancora per dominare letteralmente su Casanova Adri mentre per il terzo è ancora Daphne Di Poggio che si salva dall'affondo di probabilmente Delorean Wise 1,13,4 il raguaglio conclusivo e Degà Del Ronco davvero notevole la sua prestazione era già giunto secondo alle spalle di Daphne Di Poggio ma oggi ha corso veramente alla grande a grossa quota Degà Del Ronco con Fabio Marchino in sediolo per conto di Marco Azzaroni e del signor Nicola Andreozzi viene a vincere largamente al secondo posto si classifica un ottimo Casanova Adri mentre per il terzo ancora Daphne Di Poggio regge l'affondo di Delorean Wise Grazie a tutti